Mamma mia che derby di Milano che abbiamo visto, il Milan sopra 2-0 si fa prima recuperare e poi superare dall'Inter che adesso torna a meno uno dalla Juve C'è ragazzi patroni questo nuovo video nel quale volevo parlarvi di una stracittadina veramente pazzesca Però prima di farlo vi invito a lasciare come sempre un commento, un'iscrizione al canale, un like al video e poi vi consiglio anche di iscrivervi al mio profilo Instagram Trovate il link in descrizione, comunque per me ha vinto l'Inter meritando di vincere perché i Nelazzurri sono una squadra a differenza del Milan Che per carità ha anche un buon organico a livello di giocatori ma è troppo Ibra dipendente, il Milan senza Ibra fa veramente fatica L'ha dimostrato domenica scorsa con il Verona in cui ha pareggiato, un pareggio comunque che non poteva lasciare soddisfatti di posire il Milan E lo ha dimostrato oggi nel secondo tempo, primo tempo ha giocato molto bene al Milan perché Ibra si è rivelato il campione che è Ha dimostrato di essere ancora una volta il campione che tutti noi conosciamo Secondo tempo Ibra si spegne, il Milan crolla e infatti l'Inter fa 4 gol nel secondo tempo Comunque primo tempo dominato dal Milan sì ma qualche occasione sull'asse Lukaku Vesino c'è e c'è anche un colpo di testa di Godine che termina di poco fuori Poi esce fuori il Milan anche se i gol sono entrambi nella parte finale del primo tempo Il primo è di Rebic che sfrutta al meglio una sponda di testa bellissima di Ibra che svetta in cielo saltando molto più in alto di Godine Serve proprio Rebic ma in mezzo c'è l'intervento bucato di De Frey e anche l'uscita un po' vuoto bisogna dirlo di Padelli Padelli non perfetto neanche nel secondo gol del Milan con colpo di testa sempre di Ibra Ma qui la colpa maggiore per me c'è la Skriniar che si perde completamente l'uomo disinteressandosi di Ibra Ibra si stacca pensando non so ad una deviazione non so comunque Ibra si stacca dalla marcatura e scusate Skriniar si stacca dalla marcatura E Ibra è libero di colpire verso Padelli ovviamente conclusione avvicinata Padelli non può fare più di quello che fa Certo intervento che non è il massimo però le colpe c'è la Skriniar che non si tiene il giocatore più pericoloso del Milan Perché lì ragazzi sul calcio d'angolo Ibra è già il giocatore più pericoloso del Milan in generale Pensate un po' su calci piazzati uno così alto è un campione del genere comunque Nel secondo tempo l'Inter subito dà un botte risposta clamoroso al Milan e fa due gol ragazzi Due gol che cambiano completamente la storia scusate della strada italiana Prima segna Brozovic un sinistro al volo che non lascia scampo a Donnarumma E poi Sanchez serve un altro sudamericano serve Vesino che calcia di destro palla deviata Che però termina lo stesso in porta Ci troviamo sul 2 a 2 posizione di Sanchez veramente regolare per il piede di conto leggermente indietro Regolare ma di un mezzo millimetro comunque di un niente però posizione regolare Qui qua c'è una fase di stallo in cui entrambe le squadre cercano di vincere anche se il Milan Oltre a non avere più un Ibra splendente Anche il morale a terra dopo due gol presi in due minuti In un derby che comunque ha significato tanto L'Inter segna e ancora questo gol ragazzi taglia completamente le gambe Alminar colpo di testa di Defrae qui niente da dire colpo di testa bellissimo Ragazzi una torsione fantastica dell'olandese che la mette sul secondo palo E poi al novantesimo su suggerimento di Moses che è entrato al posto di Candreva Segna anche Lukaku e può esplodere la gioia di Zanga Può esplodere la gioia di tutti di Oriali, di Conti perché vincono un derby veramente molto delicato Adesso ci sarà Interlazio che sono le due squadre che sono lì appollagliate al secondo posto Allora di Juve a pari punti a meno uno dai bianconeri Ci troviamo in un momento cruciale, cruciale della stagione In cui nessuno si deve permettere di sbagliare Perché se adesso l'Inter perde a Roma si complica la stagione E la Lazio va in uno stato di forma pazzesco Stessa cosa può succedere al contrario Ovviamente se l'Inter vince a Roma contro la Lazio Ragazzi si conferma come una superpotenza in questo momento del calcio italiano Quindi la partita contro la Lazio potrebbe essere veramente decisiva Ma oggi il derby darà una spinta morale all'Inter Che per me è veramente molto forte In vista anche della ormai prossima Europa League Oltre alla Coppa Italia contro il Napoli Il video finisce qui, ringrazio per la visione Vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un iscritto nel canale Ciao a tutti